La linea decorativa Tattoo permette di realizzare una grande varietà di effetti unici e innovativi con una facilità di applicazione mai vista prima, riducendo il numero dei passaggi e il tempo di lavorazione. Precious è una finitura contenente microparticelle metallizzate a base oro, argento o rame. La sua versatilità permette di creare superfici con texture ad effetti ottici suggestivi che esaltano la ricercatezza dei metalli preziosi. Andremo ora a realizzare l'effetto disc, una particolare lavorazione che riproduce la superficie di una lastra di rame. Ci occorreranno i prodotti impronte Under e Precious, il rullo impronte, il pennello Sterlite, il tampone disc. Applicare impronte Under bianco o in tinta con la finitura con il rullo impronte. Dopo la completa esigazione del fondo, applichiamo Precious con il pennello Sterlite. Subito dopo, a prodotto ancora fresco, ripassiamo la superficie con il tampone disc, con movimenti circolari per ottenere la texture tipica del metallo discato. Ed ecco il risultato finito. Un effetto metallico prezioso e raffinato. Tattoo. Creatività all'infinito.